Il paese ospite in un momento molto duro in Turchia, io credo che noi dobbiamo fare il tifo per tutti coloro che combattono per la libertà, per la democrazia, per la serenità e per il diritto di manifestare. Mi ha molto colpito che i primi ad essere messi in situazioni di difficoltà siano stati i giornalisti, come accade spesso in queste circostanze. Però contemporaneamente diamo anche un messaggio per evitare la radicalizzazione, per dire che faremo di tutto, l'Europa deve fare di tutto per evitare di allontanare la Turchia. C'è chi ha altro interesse allontanare la Turchia, invece la Turchia deve essere aiutata a stare nei binari della modernizzazione, dell'innovazione, del rispetto, della pace e della libertà.